Cerimonia di premiazione nell'ambito della sesta edizione del premio Napoli Città di Pace all'Università sull'Ursola Benincasa. Il premio, promosso d'intesa con l'Arcivescovo di Napoli Crescenzo Sepe, ha l'obiettivo di promuovere un tipo di comunicazione giornalistica volta all'impegno etico, sociale e che si fa promotrice di dialogo e scambio culturale. I due giornalisti hanno dato esempio, danno esempio di come si può comunicare con oggettività, con realtà rispettando la verità e questi sono esempi grossi, il momento in cui la tentazione, è il pericolo di, non dico di annullare l'oggettività delle notizie, no, ma quello di pericolo di essere un po' strumentalizzati. Tra i vincitori di quest'anno, Claudio Gubitosi, fondatore e direttore di Gifon Experience, premiato per il suo ruolo strategico di comunicatore sociale al servizio di un'autentica cultura dell'incontro tra nuove generazioni e popoli diversi. L'idea di Gifoni, che è nata e parte naturalmente dal cinema, ha avuto però questa grande capacità di espandersi, di estendersi, di non limitarsi soltanto ad un evento come naturalmente un festival del cinema. Nel 2009, come sapete tutti, abbiamo distrutto la parola Gifoni, film festival, per cambiarla in Experience. Questa è una data che possiamo dire storica, come nell'82 arrivò François Truffaut a Gifoni e ci cambiò la vita. Così nel 2009 è cambiata la filosofia, la strategia, ma soprattutto la figura, la forza e l'essenza di Gifoni. Quindi esperienza per tutti, per le famiglie, per i docenti, per i medici che vengono a visionare i film con i ragazzi, così vedono e capiscono veramente che cos'è il mondo dei ragazzi. Queste generazioni in evoluzione, la voglia di crescere insieme, di contaminazioni culturali. 52 nazioni, quindi immaginate, religioni, razze, culture di ogni angolo del mondo, sociali, economici, tutti insieme a fare di Gifoni la piazza dei giovani di ogni parte del mondo. Premiata anche Giovanna Chirri, celebre per essere stata la prima giornalista al mondo a dare le dimissioni di Papa Ratzinger, conservando rigore, umiltà e spirito di servizio. Beh, essere stata presente in un momento in cui si faceva la storia e aver visto confermato che alla fine forse noi giornalisti serviamo ancora a qualcosa. Perché quella mattina era un evento di cui interessava quasi niente a nessuno, infatti in Sala Stampa Vaticana eravamo quattro giornalisti. Era un evento di routine e nessuno ci aveva avvertito, non c'era nessun tipo di, come dire, di anticipazione. E quindi io stavo lì tra l'altro perché in una posizione lavorativa abbastanza difficile, quindi mi facciano seguire solo le cose di cui non interessava niente a nessuno.